Come il Brasile è intervenuto per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19? È un caso, quello brasiliano, decisamente molto interessante. Si tratta, come è noto, di un ordinamento federale, il cui attuale presidente Bolsonaro ha da subito negato l'esistenza di una vera e propria emergenza sanitaria, ritenendo in qualche modo che il Covid-19 fosse poco più che un'influenza, nonostante il numero crescente di morti in Brasile. Il caso brasiliano, la risposta brasiliana all'emergenza Covid-19, dunque è molto interessante dal punto di vista giuridico perché sembra non del tutto in linea con le dichiarazioni palesemente negazioniste del presidente federale. Presidente federale che da febbraio a maggio 2020 ha sostituito ben due ministri della salute, i quali davano pubblicamente i dati delle morti spaventose, crescenti in Brasile e per questo motivo, secondo il presidente, creavano panico nella popolazione. Ma come ha reagito l'ordinamento giuridico alla tragedia del Covid-19? Va detto che tra i primi paesi al mondo, già il 3 febbraio, il ministro della salute brasiliano, con un proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, che è la norma della Costituzione che definisce i poteri dei membri del governo, ma soprattutto ai sensi di un decreto legislativo del novembre 2011, il numero 7616, che disciplina i poteri del ministro della salute nel caso di emergenze e pandemie. Ecco, sulla base di questi presupposti normativi, il ministro della salute, con un proprio decreto, il 3 febbraio del 2020, ha dichiarato l'emergenza sanitaria di rilevanza nazionale. Con questa dichiarazione, da questa dichiarazione, ne sono derivate una serie di misure che hanno trovato subito, va detto, una copertura legislativa più forte. Infatti il 6 febbraio, quindi appena tre giorni dopo l'emanazione del decreto da parte del ministro della salute, in tempi record per la storia della Repubblica brasiliana, il Parlamento brasiliano, il Congresso, ha approvato la legge numero 13979, con la quale è stata da subito data una copertura legislativa, quindi di fonte primaria, a tutta la disciplina della emergenza sanitaria. La legge del febbraio 2020 è una legge tuttavia che appare essere completamente diversa dalle normative che sono state adottate nei contesti europei, perché si preoccupa di introdurre misure limitative della libertà personale esclusivamente però nei confronti dei soggetti per i quali è conclamata l'emergenza sanitaria, i soggetti per i quali certamente c'è uno stato di salute positivo rispetto al Covid, cioè i soggetti per i quali è stata riscontrata l'esistenza di un'infezione da Covid-19. Per queste persone addirittura si prevede l'arresto qualora escano dalla propria abitazione e questo perché la misura viene percepita come un contenimento della malattia. Dunque soltanto i soggetti per i quali è stata palesemente accertata la sussistenza dell'infezione devono rimanere a casa, subire l'isolamento e la quarantena rutinare. Gli altri possono, secondo la legge, proseguire nella loro vita normale. Un altro elemento della legge interessantissimo è il superamento della normativa previgente in materia di trattamento dei dati sanitari. Anche nell'ordinamento brasiliano i dati sanitari sono dati sensibili e come tali non possono essere inseriti nelle banche dati di comune accesso da parte delle pubbliche amministrazioni. Ebbene, la legge del 6 febbraio 2020 introduce un'esplicita deroga alla normativa previgente e dispone che tali dati siano immediatamente comunicati a tutte le banche dati della pubblica amministrazione, compreso quello delle forze di polizia, proprio perché occorre necessariamente conoscere, che sia conosciuto da parte di tutti, che quel soggetto è un soggetto portatore della malattia dell'influenza Covid-19. La terza misura introdotta dalla legge attiene, noi diremmo, ad una serie di deroghe degli appalti. In Brasile, come è noto, c'è stato un grandissimo scandalo lavaggiato, un grande scandalo di corruzione che ha portato all'arresto di tre presidenti della Repubblica, di due presidenti della Camera, di quasi la totalità dei parlamentari. Talmente consistente questo scandalo che, nella riferimenti della stampa locale, il paragone è con la Mani Pulite Italiana. Quando avvenne questo scandalo, furono approvate una serie di norme che fino a quel momento mancavano, volte a regolamentare le modalità degli appalti e gli affidamenti nei confronti di soggetti privati di servizi. introducendo delle regole di garanzia, quindi evidenza pubblica, gare, selezioni, procedure di tutela e di garanzia per l'amministrazione. Bene, la legge del 6 febbraio 2020 ha derogato a tutte queste disposizioni, dicendo che per gli appalti connessi a servizi relativi all'emergenza sanitaria si può provvedere interno. Il direttore sanitario, piuttosto che l'amministratore territoriale, può affidare quel servizio a quel soggetto perché lui ritiene che sia valido a prescindere da ogni gara. E anche qualora quel soggetto, l'imprenditore, sia inserito in una sorta di blacklist per motivi legati alla solvibilità oppure alla presenza di criminalità nell'organizzazione di quell'impresa, qualora quell'impresa sia l'unica in grado di fornire quel servizio, la blacklist non rileva e si può procedere ad affidare direttamente a quel soggetto. Dunque, la legge del 6 febbraio 2020, la 13.979, interviene su questi tre fonti. Vietato per i malati di uscire di casa, se no c'è l'arresto, dati sensibili, non più sensibili, e possibilità di, anzi obbligo, di inserirli in tutte le banche dati possibili e immaginabili, quindi palese violazione della privacy, e il terzo elemento, sospensione di tutte le norme sulla trasparenza e sull'anticorruzione inserite in qualsiasi tipo di provvedimento. La legge del 6 febbraio 2020 ha subito una serie di modifiche da parte di, chiameremo, decreti legge adottati dal governo. In realtà, l'articolo 62 della Costituzione brasiliana prevede i cosiddetti provvedimenti provvisori, cioè a dire, sono degli atti aventi forza di legge che entrano immediatamente in vigore e che sono emanati dal Presidente della Repubblica e devono essere convertiti in legge, noi diremo, entro 30 giorni dal Congresso nazionale. Questi provvedimenti provvisori, appunto, una sorta di decreti legge, il termine decreto legge era in realtà previsto nella precedente Costituzione precedente a quella del 1988 e la Costituzione dell'88 elimina espressamente la previsione dei decreti legge perché erano stati oggetto di abuso da parte dei precedenti Presidenti della Repubblica. Comunque, questi provvedimenti provvisori hanno in qualche modo modificato la legge del 6 febbraio 2020, in particolar modo il Presidente Bolsonaro ha adottato tre provvedimenti provvisori. Il primo è il 926 del fine marzo 2020 con cui il Presidente della Repubblica Federale ha introdotto una serie di divieti all'entrata e all'uscita dal Paese, soprattutto però inizialmente, almeno per quanto riguarda le frontiere con i paesi di mitrofi e il Venezuela in particolar modo dove l'epidemia sembrava particolarmente più rilevante che in Brasile. Sono stati però, con questi provvedimenti provvisori, con questo provvedimento provvisorio, sono stati però individuati una serie di servizi pubblici essenziali che necessariamente dovevano essere tenuti aperti e dunque il provvedimento provvisorio ha disposto l'impossibilità di vietare la chiusura a qualsiasi livello territoriale di quella tipologia di servizi e l'impossibilità di vietare per i lavoratori connessi a quei servizi di vietare di recarsi al lavoro. Il provvedimento provvisorio del Presidente Bolsonaro, il 926, ha ulteriormente derogato alle misure sulla trasparenza in materia. Qualche settimana dopo, il Presidente ha approvato il provvedimento provvisorio 927 del 22 marzo del 2020 che è stato oggetto di grande contestazione da parte della stampa, della dottrina, da parte di tutti. E questo essenzialmente per una serie di motivi perché questo provvedimento andava, va nella misura di introdurre per, di disciplinare diciamo con modalità del tutto originale il rapporto di lavoro nel privato e nel pubblico. In primo luogo si prevede l'obbligo di messa in smart working per una serie di categorie di lavoratori, l'obbligo di riconoscere a quei lavoratori le ferie anche non retribuite, anche le ferie future, ma soprattutto si prevede la sospensione del pagamento degli stipendi per quattro mesi sia per i dipendenti pubblici sia per i dipendenti privati. Quest'ultima misura è stata talmente contestata da spingere il Presidente federale il giorno dopo, il 23 marzo, con un altro provvedimento provvisorio, il 928 ad abrogare questa previsione. Ora, da questa veloce sommatoria di disposizioni introdotte in Brasile, che cosa emerge a mio avviso? Emerge un atteggiamento del Governo federale volto essenzialmente a preoccuparsi più che dei profili sanitari, dei profili economici. Il Presidente lo ha detto fin dall'inizio, non crede che questa sia un'emergenza pericolosa dal punto di vista della salute. Il Brasile ha avuto tante emergenze sanitarie, ci sono emergenze sanitarie permanenti legate a malattie infettive particolarmente gravi, come la malaria, qualche tempo fa la zika, per cui sono ricorrenti, dice Bolsonaro, malattie di questo tipo. Non ci possiamo certo stupire, dice Bolsonaro, per questo Covid-19, che al massimo sostiene Bolsonaro, selezionerà ulteriormente la razza. Al di là, diciamo, di queste dichiarazioni che non possiamo non ritenere surreali, essendo amanti del diritto e della libertà, emerge chiaramente come gli interventi normativi siano focalizzati non a vietare o a limitare la diffusione del contagio, quanto a circoscrivere i malati nelle loro abitazioni, i malati conclamati, senza tuttavia porre in essere misure per accertare se la malattia si diffonde nel paese, e preoccupato, con preoccupazioni evidenti, di risolvere i problemi economici, soprattutto di alcune imprese che rischiavano di essere in difficoltà a causa di eventuali lockdown. Ma è interessante notare un aspetto. Siamo in un ordinamento federale. I poteri del Presidente federale, dunque, traggono una limitazione dai poteri dei governatori dei singoli stati. E i governatori dei singoli stati, compreso i governatori politicamente più vicini a Bolsonaro, legati alla stessa maggioranza che in Parlamento sostiene Bolsonaro, come il governatore dello Stato di San Paolo, ma anche il governatore dello Stato di Rio de Janeiro, gli stati più grandi in termini di popolazione, hanno adottato misure completamente diverse. Hanno adottato misure che potremmo dire essere simili a quelle italiane, a quelle europee. Hanno introdotto il lockdown, hanno chiuso le imprese, hanno chiuso gli esercizi commerciali, hanno imposto per i cittadini anche sani di rimanere a casa nelle loro abitazioni. Si evidenzia dunque ancora una volta e anche su questo tema due binari nell'ordinamento presidiano. Il binario federale del Presidente che decide di non intervenire in maniera seria, strutturata su questa emergenza e il binario dei singoli governatori che invece hanno un atteggiamento completamente opposto. questo doppio binario va detto non è una situazione nuova in Brasile, ha caratterizzato tutti gli ultimi 30 anni dell'ordinamento brasiliano, ma il numero di morti da coronavirus 19 in Brasile è talmente rilevante da destare forti preoccupazioni nella comunità internazionale, oltre che in quella brasiliana, circa la capacità di Bolsonaro di fare fronte con serietà a questa drammatica situazione. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.